Non ci credeva più nessuno Sembrava che Gaetano fosse caduto in un oblio Sembrava che Gaetano fosse caduto nel canyon del dimenticatoio Sembrava che Gaetano, l'afroamericano preferito di tutta l'ola Fosse ormai sparito, scomparso, dato per perduto E invece, dopo soli infiniti giorni Siamo tornati con l'episodio più importante di Pokémon Ultra Sole forse Quello in cui andremo ad affrontare la Lega Bentornati sul mio canale di gaming Bentornati nell'episodio numero 27 Di Pokémon Ultra Sole Prima di iniziare ovviamente Perdonate la mia assenza Ma dopo Washington ci ho messo due settimane a riprendermi Anche perché sono andato anche a Modena Non sono riuscito a fare nulla Ma oggi siamo qui Gaetano è davanti al professor Cucui Che ancora non vedete per affrontare la Lega Pokémon Prima di iniziare vi chiedo un like Vi chiedo un commento Nei commenti scrivetemi Bentornato Gaetano O Ben Gaetano Tornato Vi ricordo anche che potete abbonarvi a questo canale Ovviamente gli abbonamenti sono extra Nel senso che sono un po' in prova So che nell'ultimo periodo non ci sono stato molto Però nelle prossime settimane e mesi Probabilmente ogni tanto farò qualche live Quindi vorrei il vostro supporto Avete un tasto con scritto abbonati Mi raccomando Fatelo per me è molto importante Perché il vostro supporto è sempre piacevole Arriviamo a 5000 like Perché oggi si scrive la storia di Gaetano De Alola e di tutti quanti Professor Kukui Prima di parlarti fammi vedere un po' la situazione Mi sei manchato Gaetano La situazione è Erpu, Mazzano, Jessica, Jake, Merdone, Ahmed Questa è la squadra che sta per andare ad affrontare La Lega Pokémon Professor Kukui Io vedo quattro diagramazioni Ma quindi posso scegliere quella che voglio in realtà Ma mi fai capire che roba è O devo andare a caso Cioè tipo questa è Ah non lo sappiamo Non lo possiamo sapere È completamente Ah no Lì c'è una cosa arancione Questa cos'è psico tipo Cos'è psico Roccia Erba Fiamo questa Erba Credo sia erba Gaetano finalmente Sul monte Lanachila E chi sono questi Immagino che sia erba È verde Lo smeraldo verde La prima lotta Contro una fica Godo Oh no Le ali della morte Le ali del destino Oggi è episodio in cui fammo Ma mi devo muovere io Ah no Gaetano Abbiamo lottato Abbiamo atteso Abbiamo fatto di tutto per farti arrivare qui Gaetano Io sono la grande Kaili Anch'io ho conquistato il titolo di campionessa del giro delle isole Alcuni anni fa Ho iniziato a girare il mondo per perfezionare la mia abilità nel golf E nelle lotte È letteralmente Bail Preparati ti mostrerò tutta la mia forza Dei miei figli di Pokémon volante Nessun problema A saperlo prima Mettevo come primo Quel fottuto uccello elettrico E da capisci al campione Oggi ci gustiamo delle lotte Oh no Golfista Con un Rolex al polso gigante Kaili Dobbiamo cominciare a fare sul serio A pensare tutto qui Tutto nel cervello Ovviamente il top sarebbe stato avere altro al posto suo Inizierei con un braccio teso Tanto è più veloce lui di noi Quindi è tutto inutile Baldeali Super efficace Siamo già morti Però Baldeali si colpiva da solo mi sa no Sì Braccio teso La prima mossa terduce della Lega Sai che lui si è tolto un terzo di vita Eh dai ti prego Potevi fare meglio Se mi curo è inutile Fa una cosa Fammi vedere le cure che ho Quante ne ho di perpozioni 18 Usala Le curi Lui riusa Baldeali Si colpisce da solo e muore E noi sopravviviamo con 44 di vita E se gode Baldeali Ah no Forse 9 di vita Guarda A meno che non faccia brutto colpo 25 di vita Morto Te ne sei andato Coglione del cazzo E via Air Primo Si potrei cambiare Pokémon Però non mi fido molto Aulucia Sono tutti più veloci di noi Curarsi è inutile Secondo me Quindi lo farei perire Broco denti così tanto Non puoi attaccare tu Quindi Schiacciatuffo Ah no ma vi ricordate Aulucia è l'incubo Dei tre regni Raga Jessico Chiamo te Devi sorprenderci Con il tuo fulmine Sarà più veloce Impossibile Avrà una massa super efficace Aulucia Assolutamente si Velè in puntura In realtà no Ma ci avvelenerà Come niente ci ha mai avvelenato Nella vita però abbiamo una pozione max Che forse possiamo usare Fulmine Vediamo se lo massacra Fuori di testa cazzo Fuori di melone cazzo Mi tengo l'avvelenamento Ok ci leva tutto Mandi Boots Manda chi cazzo te pare Letteralmente Gli rifai fulmine No baldeali di nuovo Si c'è un te baldeali No non me le ho Ok buono Contracolpo Fulmine Mandalo al creatore Non l'ha mandato al creatore Non ci posso credere È il momento di usare pozione massima Massima pozione Massimo Bossetti Nel cuore Ah no anche lui Doppia cura Dai una cura totale Baldeali di nuovo Va bene va bene Ci avremo un cazzo Comunque il contracolpo Che subisce lui È pochissimo Ma perché Adulazione Che cazzo significa Oh no che fa Mi aumenta cosa La voglia di cazzo La voglia di cazzo aumentata No Sono confuso dal troppo La voglia di cazzo Si colpisce da solo sicuramente Mannaggia Baldeali di nuovo C'hanno solo questa mossa Secondo me non mi ammazza Si gode Non è più confuso Si gode Fulmine Forse con doppio baldeali Lo mando al creatore Ci siamo Ertucano della muerte Tocca di curasse Tanto ci avrà baldeali Comunque sono venuto qua Letteralmente senza strumenti C'ho solo i perpozioni 17 No ma frate Ma è impossibile questa Lega Troppe poche cure No Mossa gigante Mannaggia Picchiata devastante Merda Con quel beccone Non dovrebbe in realtà Togliermi troppo eh Io potrei mandare Jake Ma verrà instashottato Dobbiamo credere nel gelopugno Ma purtroppo il gelopugno Non lo riusciremo a tirare Che fa? Oh no Si è scaldato il becco Buono 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 Va bene Va bene Va bene Che sei scottato Va bene Oricorio Sembra una bestemmia Non mi convinci Merda è rosso Ah perché è di fuoco Potresti fare martellata Ma secondo me Lui ti attacca prima E ti massacra Strampa danza Attenzione che forse Non fa danno Mi confonde Mi confonde totalmente Si colpisce da solo Perché la possibilità Di colpirsi da solo È 100% Assolutamente no Martellata super efficace Non credo muo Minchia Quanta vita ha il coglione Eterlama Eterlama cos'è? È super efficace Ecco cos'è Mannamed Idrobreccialo No ho fatto una cazzata È morto Tocca fa schermaglia Poco efficace Siamo morti GG dai Danza de piume Ma cozza Aumenta qualcosa La difesa Diminuisce l'attacco Va bene Idrobreccialo Ti prego Mandalo al creatore Meno 2 61 perameda Che però Ha la necessità Di togliersi dai coglioni Perché verrà distrutto Dal prossimo Pokémon Ah no GG È il primo sedato Che cazzo è? Che cosa ho attivato? Il portale dell'arcobaleno blu Hai portato un vento nuovo Adalola All'inizio non ero molto convinta Dell'invito del professor Kukui Ma ora sono felice Di aver accettato Cos'è quel coso Che hai Dove vado? Ah torno al centro Si illumina la strada Di Gaetano Verso la sala finale Quanto cazzo sarebbe Ficoso Se mo' io te parlo e me curi Famo rinasce tutti Ok sono tutti vivi Famo lì in ordine Tanto cambia poco Al massimo si cambia Tanto fortunatamente Dei revitalizzanti li abbiamo Quindi in realtà Ma è proprio lui È Tapsoba Che fenomeno Fra calmo Con questo cerchio della muerte Tapsoba Che tipo sei tu? Tapsoba non era Ah no era nell'hotel Dove era Tapsoba? Ah no era nel coso di Del ragazzo obeso Kukui mi ha chiesto così tante volte Di diventare un super 4 Che alla fine ho dovuto accettare Non vedo l'ora di lottare contro te e Chris Qui alla lega pokemon Che cazzo c'entra Chris? Non è qui quel bimbo obeso Tapsoba Te manca un pezzo d'occhiale Raelett No elettro è impossibile Ah no Krefki Eh Krefki È acciaio Cos'è acciaio fica? Non esiste questo tipo di pokemon Vabbè in realtà ci va bene Rogo sborra Tanto non sarai mai più veloce Di nessun pokemon Neanche quelli sulla sedia a rotelle morti Riflesso Resista agli attacchi fisici Proprio quelli che mi interessano a me A posto dai Avemo perso Lancia fiammalo Questa resistenza scusami Per quanto dura Tre turni spero Non all'infinito All'infinito sarebbe assurdo Trappolate punte Lancia fiammalo Purtroppo gli elevi poco Però c'hai due mosse super efficaci Si gode Il primo è andato Non mi devi mettere in difficoltà Tapsoba Sei un coglione Ricordalo Non ho visto chi è Meta grosso C'è ciuccia le palle no? Sarà lento come una faina Infatti la faina è velocissima Shot No non lo shot Non shotta nessuno Martel pugno Ma è super efficace Mannaggia Cazzo De di Perché è super efficace? Che tipo è Martel pugno? Non acciaio a questo punto 61 per Puma Se gode Tocca curarlo però Dugtrio Come Dugtrio? No Nino D'Angelo Dugtrio Ah siamo Amo perso Io mi curerò Te dico perché amo perso Perché lui ora mi farà due mosse super efficaci Questo è il problema Terremoto Eh siamo già morti Si Terremoto No come lo fermi adesso Il terremoto di Nino Dugtrio D'Angelo Merdone Rispugna terremoto Con sai con che cosa? Con terremoto Se me lo fa lui Tecnicamente dovremmo sopravvivere No? A posto Dai Ciucciaci le pallone Super efficace E se ne va a casa Il problema adesso è che forse Il nostro merdone potrebbe essere inutilizzabile A meno che B-Sharp Eh vedi qua serviva proprio Il Puma Puoi continuare ad utilizzare terremoto Ma sarai più lento Metal testata Acciaio Acciaio puro Contro una testa durissima No A tentennato Iperpuzione Ma cazzo te sei permesso eh La gloria Di merdone Guarda quanta vita c'ha merdone Metal testata di nuovo Lo sai che ti dico Ne uso un'altra Ne rischio un'altra Capiterà il super 4 che No è impossibile Il super 4 che Umili Ha solo questa mossa Attenzione Ma me leva sempre di più Osvaldo Terremotalo Ferro strido Che fa Mi abbassa cosa E la difesa La difesa speciale Sti cazzi Sia coglione Pallacce Sudate Leccate E se ne va E se ne va La capulissa Se ne va Manca l'ultimo Magnezzone Eh questo è un problema A meno che Ah lo posso fare Non glie Non vola lui Sai che forse Ma dico forse Siamo fortunati No è il flash del cannone Vabbè acciaio È come prima Non è super efficace Stai fermo Cristo Vabbè con calma Abbiamo tutta la possibilità Di rompergli il culo Non con Ahmed Con Jake Lotta Gli fai una bella brecciata qui So qui Proprio boom Come dice Tony F Io ho dato una vista A colparmo della mano qua E allora dagliela sta pizza E allora dagliela sta pizzona Di nuovo il flash del cannone Tecnicamente Oh f*** Manna med Ma che manna med Fratello Dai manna med Vediamo che succede Se no tocca fare I vitalizzanti a stecca Sul pumo ovviamente Oh ma ste punte Ma quanto durano Poco efficace Che significa Quanto poco gli levi Manco troppo poco Stridio va bene Che mi abbassi La difesa di med Sangrisuga Fulmine Beh non dovrebbe essere Super efficace però È vero è acqua Mannagessico Ma gli fai sottocarica Fulmine Stridio ancora Va bene Va bene Va bene La difesa Ma tanto lui ha solo mosse speciali Utilizzi sottocarica Aumenti così La tua difesa speciale Che potrebbe essere molto utile E gli fai fulmine So che è poco efficace Ma con tripletta Che cazzo è Ma che mossa era Mossa di Alan Vedi 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 Gli fai sottocarica Tanto mi ho segura Va bene va bene Tutto cervello Fulminalo Tanto attacchi tu Ah no Non puoi È vero Mi ero dimenticato Lui può attaccare Quante cazzo di volta gli pare Ok Ce le va sempre di meno Seguate Gli rifai sottocarica Tanto lui ti riusa tripletta Perché Ma ancora Sì ma basta Fratello ti prego Aumenta tutto Lui con tripletta Ci toglierà sempre meno Tanto mi mandi Tipo 90 di vita 86 va bene Penso che non si curi mai più Buono E faglielo un brutto colpo 7 va eh Va bene va bene Gli rifai sottocarica La nostra difesa speciale È letteralmente la difesa Della Juventus quest'anno Di nuovo fulmine Che lo mandi al creatore Ah no tripletta Vabbè Ci leva 1 No Ma come Ah certo Ha dovuto fare brutto colpo Merda fratello Stanno viene shottato Quindi tocca che tu lo mandi E tocca che contemporaneamente Revitalizzi Te direi merdone Ok usa stridio Perché non usa Fulmine E vuoi dire che sei matto Frate te dico potere zeta Oh prova picchiata Lo fa Lo fa Lo manda a casa Mossa dell'aquila Imperiale Tanto gli leva 1 no Non lo sappiamo che non muore Sali in aria Va nel cielo Tipo Icaro Si scotta con il sole E torna giù No Gli è rimasto 1 Oddio non muore Oddio non muore Fermi tutti Te prego Ole Sudata come non mai E magnezzone Purtroppo con quel brutto colpo Alla fine Ce l'ha un po' messa nell'ano Ma a noi non ci interessa Meno 2 super 4 Meno 3 in realtà Tapsoba Ci siamo visti Per l'ennesima volta Mi hai presa nel culo Ce sta Con cui ha scelto gli allenatori Più forti di Alola Come super 4 In modo che non potessimo Affrontare la lega Pokémon Noi stessi Vuole portare un vento nuova Da Alola Il coglione Ce sta 2 su 4 Senza difficoltà alcuna E se vola Ok Fammo tornare in vita tutti La spada d'oro Si illumina ancora Nel percorso di Gaetano Che è sempre più vicino A diventare il re di Alola Professor Cucui Lei è sempre nudo Tutti sono tornati in vita Meno 2 Questo qui che è Sembra terra Roccia Qualcosa del genere E non sapere leggere Ma soprattutto Senza saper scrivere Io ti dico che metto Merdone al primo posto Terzo super 4 Chi sarà Dietro questa porta Oh no E cosa Come si chiama Non mi ricordo Non api L'altra La feca L'altra Come puoi intuire Il protagonista È il tipo roccia L'avevo intuito No se crea Er monte Everest Alexia Non l'ho letto Giuro Se non sbaglio Le origini sono simili Forse lei Un po' più a nord Ma siamo lì Ok tipo roccia È qui che serviva Un bel tipo erba Un bel tipo acqua In realtà forse Con Ahmed Possiamo avere delle Delle possibilità Armaldo lo spavaldo Ma è nano Ma quanto è alto Questi sono tutti lenti Peso bomba 4BGX Mannaggia Cazzo Pensavo togliesse Molto di più Peso bomba Dovrebbe esserlo Super efficace No Madonna L'hai mandato al creatore Cazzo Ma scusa ma Armaldo È minuscolo Va bene Prima è andato Cradley Questa ce la dobbiamo Togliere dal cazzo Immediatamente Eh ma non l'ho shotta Roccio tomba Secondo me non è un problema Ma che va fa Ma hai levato uno No no Spike di rocce Non ho visto come si chiama Circondata da roccia A guzia Buma Cade dal cielo Un proiettile di acciaio Via Forse lei è la più semplice In realtà eh Dove c'è il merdone C'è semplicità Robo passa Prova a passare Mario Sturniologo Allora secondo me Lui comunque vola Forza Equinalo Di Rempesta Non ci dovrebbe interessare Troppo in realtà Ma fa danno La tempesta di sabbia Non mi ricordo Buma Lo manda al creatore Certo a vigore Tanto adesso sicura Quindi vabbè Ricarica totale Su Mario Sturniologo Utilizza marijuana Mario Sturniologo Torna in forze Forza Equina Ah ah certo Vigore È all'infinito Dove ricurare Per caso Certo Che domande Stai aumentando Solo la sofferenza Di Mario Sturniologo Ennesimo calcio Sotto al naso Ormai non ce la fa più Sta sanguinando Come il naso Di Diego Armando Maradroga Ora potevo usare Anche forse Ah Vabbè frate Ma merdone È letteralmente Il dio dei cavalli Via dal cazzo Coglione Forse possiamo utilizzare Una cura ora eh No Likanrock No Likanrock Abbiamo tutto Super efficace Vuoi sapere qual è il problema Che non me fido Non me fido mai Iperpuzzalo Non me fido mai Perché lui ha una velocità Devastante Tra l'altro scusami Ma questa forma De Likanrock Era quella che volevamo noi Che non potevamo avere O sbaglio La tempesta De sabbia cessa Ma come te permetti A fare questo Body shaming Terremotalo Tanto lui riutilizzerà Mossa non efficace Ah no Terremoto Vabbè lo mandiamo al creatore Questo Non lo rivedremo mai più Eh sì vabbè Che cazzo ha usato No frate Che roba era Mana Jake Tecnicamente non può più curarsi Perché ha curato Tutti Anche la nonna In fin di vita Malata terminale Breccialo Ah no certo Super mega mossa Anziato in Likanrock Ok Mi dimentico che esistono Queste mosse Gigamacigno polverizzante È proprio lui Ci lancia Apophis L'asteroide Che sterminerà La razza umana Nel 2029 Lui lo lancia Sulla nostra capoccia Non è molto efficace Ma comunque Ci massiamo Rimani Ahmed Mossa d'acqua Ti prego Mi devi far attaccare Per primo frate Godo Coglione No Ahmed Dove cazzo vai Ti prego Puma Ma che Sì vabbè Doppio cazzo Eh ma non posso attaccare mai Lo sapevo Lo sapevo che Likanrock Sarebbe stato un problema Ma è sempre così Mana Jessica Non è neanche l'ultimo Sì frate ma le rocce aguzze Ma quanto tolgono Godo Ah si poteva evitare Ok Forse il più problematico è andato via Però in realtà Jessica È un pokemon inutile In questo caso Gigalit Sabbia fiume No La tempesta De sabbia Eh che devi fa Fai sotto carica Fulmine Come prima Sperando che lui Non faccia una mossa Che ci devasti Tipo questa Madonna Quanto sei forte Jessica Stai evitando tutti Fulminalo Mo non te dico che lo ammazzi Perché non lo ammazzi Ma sicuramente Gli fai molto male Molto male Pietrataglio non è riuscito A evitarlo Va bene La situazione è complicata Ma non impossibile Ah facile Che ci vuole Abbiamo vinto No C'è la tempesta Ah anche le rocce No si Allora lui è l'ultimo C'ha due de vita Vogliamo andare sul sicuro E tirare una revitalizzantizzata Per andare sul sicuro Occhio che l'hiamo finito Revitalizzanti Devo fare due lotte ancora Revitalizza merdone Pietrataglio Ha evitato Va bene Fin quando evita A me va bene Che forse siamo pure culo Devi mozzicarlo E lo devi far fuori Te prego Orca madonna Merdo 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 Ok pietra guzze Pietra guzze però Lo voglio come mossa Perché lui è impossibile Che abbia un qualcosa Che ci possa uccidere Devi gamblare La porta a casa Merdone Eh ma quell'Igarrock Ce l'ha proprio messa nel culo Era quello il problema E Gigalit ci saluta Non lo vedremo mai più Se non su un epitaffio Su una lapide all'interno Del cimitero di Alola E anche la figa Ci abbandona Ma fortunatamente Credo che abbia qualcosa Da dirci Te voglio Ciuccia le palle Grazie mille La terza via dorata Verso l'ultimo E poi il campione Che io pensavo essere Il professor cucui A me sta venire Poi per dubbio Che il campione In realtà È quel coglione De au Allora Revitalizzi tutti Ok tutti vivi Ultimo super 4 Cos'è Psico Psico Spettro forse Vabbè comunque nel dubbio Erpuma Fracico Fracico Matto Fuori di melone Ah quindi la super 4 A questo punto Eh sì è proprio lei È Malpi Malpi che me vuoi dire Quindi Spettro Se gode Erpuma È qui per te Sei giunto Dalla nobile Malpi Io sono la principessa Delle fiche Namo che da L'ultimo scoglio Prima dello scoglione Soi a chi Por la storia Sì Banette banone Cioè il dubbio Se attacco sempre prima io È finita Siamo già dal campione Cos'è perché Perché gli fai braccio teso A posto dai Non attaccherò mai prima io Che cos'era l'attacco Buono Difesa Vabbè mi frega il casso Braccio teso Banette c'era tipo 4ppi di vita PS Ok via al primo Meno 4 Ma mi sta a venire il dubbio Quante volte la devo battere Sta lega io Una o due Palo Sand Madonna che schifo Vabbè sarà Spettro uguale Braccio teso Non mi interessa neanche capire Che sei È una di quelle strutture È un eco mostro Ma no io non lo ammazza C'ho forza Ma come c'ho forza Non mi ammazzate prego Ok Secondo me non lo cura Godo se gode Erpalo se ne va Erpalo de sabbia Non so Dove te lo Via Allora il problema adesso È che probabilmente Erpuma ci saluta Del mese Ma chi è Questa è sta sulla prenestina Che schifo Che cos'è Sarà velocissimo Ma certo O l'ho shotta o l'ho shotta Perché se non l'ho shotta Non l'ho shotta Quindi siamo morti Non l'ho shotta Se gode Schianto Peccato Ma subisci un contraccolpo Mai nella vita Jake mi fido de te C'è lo pugnalo Tanto ricarica totale Lo sapevo Malpi Eh io te so Entrata nel cervello Entrata perché sono una donna Gelopugno Super efficace Ma non è morto E si gode sempre di più Ti pare che lo conge... No gelopugno è l'unica mossa a ghiaccio Che non può congelare Lo fai due volte Boom Mato Se gode Ciao del mese Ok terzo Via Meno due Froslass Siete tutti Froslass Qua la problematica è una sola Tocca a cambiare Pokémon per forza Meno che non vuoi fargli un attacco d'acqua Così per il meme Per levaglio un pochetto Prova tanto attaccherà prima lui Stordiraggio Ah confuso Ovviamente ci colpiremo da soli Per un paio di volte Lui ci farà una mossa e moriremo Prediction Ho letto le carte Ho letto il futuro Ho visto tutti i futuri Solo in uno su quattro milioni Non mi attacco da solo Guarda che adesso lo rifai Ve l'ho detto già Pallò ombra No moriamo prima Tranquillo Nessun problema Ci ricolpiamo da solo E la mia prediction È stata così azzeccata Mannammerdone Tu direi sei matto Sono fuori di capa Non dovrebbe essere un problema Ma levate va Che mi diminuisci La voglia di cazzo di nuovo Ah sborra Ha usato sborra Ho capito Buono Sono costretto a far morire pure lui Basta Ma scusa Ma Bora Ma scusa un attimo Ma perché attacca sempre Non poteva Non era quella mossa che falliva Vabbè tanto è inutile Perché adesso rifà Bora Quindi c'è nel senso Ammazzami ti prego Impossibile che Bora fallisca Ahmed Ti puoi far sbigo attacco Vediamo un po' Se si colpisce da solo Per la terza volta di fila Balla ombra Ti prego Non ti chiedo tanto Ti chiedo di non colpirti da solo Spigo attacco che funziona Oddio A te pare Ma ti pare che lo uccideva E torna indietro Ahmed Vabbè Zanno è morto Prima di iniziare Però magari è più veloce Ricarica totale Ma gli leva uno Più di metà Bravo Ha fatto brutto colpo Quindi adesso non lo ammazza Ma tanto lui fa Bora No non lo ammazza Porco di Lo sapevo Addio Zanno È stato un piacere Allora frate c'ho una tecnica in testa La tecnica è questa Schermaglia Ok Via Via cazzo L'ultimo Merda vedi se Jake fosse stato vivo Che se Jessica fosse stato vivo Non attaccherò mai prima di lui Però puoi fare una cosa Puoi curare Ahmed Anzi Curi Jake La trusti Amnesia Va bene Che fa? Si è dimenticato chi è il padre Oh no E perché non farlo anche su Ahmed Per sicurezza Non per altro Fuoca l'energia Che fa? Ha solo mosse di staz Bigo attacco Provalo Più di metà Se gode Non ho visto È mossa del vento A coglione Bigo attacco perché fallisce di nuovo Ok Siamo dal campione È scoppiato Ma com'è scoppiato? È scoppiato Ma che è? E anche l'ultimo super 4 Non può far altro che perire Mi hai lasciata bocca aperta Con il tuo giga cazzone A quanto pare il mio sogno di diventare campione Il Stato di Allola è andato in fumo Non solo quello è andato in fumo Caramalpi Anche il nostro cervello A breve andrà in fumo L'ultimo Getto dorato Che a questo punto ci aprirà Eh sì Ah no è sparito il professor Cucui Allora può essere che lui è il campione Fermi un attimo Prima di entrare Toccare vitalizza tutti La squadra che sta per andare ad affrontare il campione Che credo sia Ma potrebbe essere il professor Cucui Dato che è sparito È la seguente Merdone Zanno Jessica Jaker Puma Mad Pole position per merdone Lo metto lì primo Solo semplicemente perché ha molta più vita degli altri Ha una buona resistenza Un buon attacco Un buon tutto Quindi potrebbe carriarla Quindi lo mettiamo lì Le scale Der champion Le scale del campione Che non c'è Oddio siamo noi? Ah è la poltrona Della gloria Perché non c'è nessuno E sono il solo in questa stanza Professor Cucui E lei è il campione Lo sapevo Sei il nuovo campione Lo sarai Se riuscirei a vincere anche la tua ultima sfida Contro chi? Contro di te? Oddio Il tuo ultimo avversario sarò io Ma come sarò io? Ah Ha prencato È au È quel coglione di au Incredibile Quando ho abbattuto il nonno all'apice della sua forza Mi sono accorto di una cosa Tu sei un punto di riferimento per me Gaetano Voglio affrontare anche te in una lotta all'apice della tua forza E voglio vincere Sennò tipo Goku e Vegeta Faremo scintille È il titolo L'ultima lotta Quella che consacrerà La nostra vittoria Au Allenatore Non vedo l'ora di prendere il mio posto Ma non ha capito che l'unica cosa che prenderà in questa lotta Sarà il cazzo Raichu Non è Raichu normale È Raichu dopato Attenzione Subito senza pensarci Terremoto Attacca prima lui psichico È vero che è tipo psico-elettro Non ci interessa Merdone resiste Fa tremare tutte le placche tettoniche del pianeta Terra E Raichu ci saluta Primo andato via Ma quindi questa è la lotta per definire Cioè se vinci au Il campione au Va No va Lo sappiamo già Non solo lo sappiamo Ne siamo completamente consapevoli Io mando Jessica Ma purtroppo Fra pochissimi secondi Il gioco crusherà Perché lui farà Oddio Perché? Idropompa si deve ricaricare? No Ah lui non può fallere idropompa Perché idropompa non crusha? Questo è un problema bro Non posso mandare nulla Puoi mandare Ahmed E fargli schermaglia È sempre una buona goal schermaglia Tanto attacchi per primo Che poi non siamo Cioè Io non so perché non si è grasciato con idropompa eh Ma non potrei aiutare prima fascino Coglione di merda Invece di farmi fuori il mio gessico calcetto Fagli sbigo e attacco buio Ah ritirato vapore and dalla lotta Bravo coglione Crabobinable Eh non bene in realtà Lui è ghiaccio Mannerpuma Lo conosciamo bene Crabobinable È nostro Lo sappiamo Lo conosciamo Pietratà Mannaggia di c***o Chissà se potrò attaccare Porca madonna Mannerdone Oh ti prego non caccare troppo i coglioni Un fottuto drago volante Sarà più veloce di un porco Due di granchio di merda Mandalo al creatore Mai nella vita E' attentennato se gode Mandalo al creatore Ti prego non curarlo Godo coglione Mori Bastardo coglione Godo C'ha ancora la Borean in giro A metà vita eh Quindi c'ha due pokemon e mezzo Noivern Oh Noivern contro Noivern Di chi è? Eh chi? No No ma perché? L'uso Vai Jake Mi fido di te Hai una per quattro E' volante drago questo Tutto sta nel fatto che tu attacchi per primo Ma è impossibile Etere lama Beh non dovrebbe darci troppo fastidio Ma gliene sono rimasti quattro Raga ma dove andiamo? Cerchiamo di revitalizzare più gente possibile Super zanna No e dai Ordalo C'è precisamente metà vita Devi continuare a curare i pokemon Non hai altra scelta Devi curare tutti Drago pulsa E ci saluta anche il puma Ah siamo entrati nel loop Ci vediamo fra una mezz'ora Ho finito i revitalizzanti Ricarica totale sul puma Ci sono rimasti sti tre Cioè dobbiamo andare avanti con sti tre Godo Ha finito drago pulsa Fai fuori questo coglione del cazzo Con braccio teso per forza Ah non l'ha finita Era un prank Coglione Pensavi che l'avessi finita Eh no Ho fatto una finta Così tu non ti sei curato Non gli eleva niente Riperpozionare Lo so che te ne mancano cinque Ma ti devi riperpozionare all'infinito Novecento ppa Novecento Ne ha novecento Ok non mi ha ammazzato Però tanto adesso io farò super potere z Non lo potrò usare Perché lui farà brutto colpo E morirò Nero puzza Godo Ok forse E dico forse Ce lo siamo dato dai coglioni Ma ne mancano altri due Che non so come buttare giù Ah no uno è Vaporeon No ne mancano tre Quindi due e mezzo Ne manca Si salta dalla terza corda Ok bravo Ok E uno se ne va Due pokemon e mezzo Contro due pokemon e mezzo Equilibrio totale Eccolo qua Amo letteralmente perso Tanto lo sapemo Dopo tutta sta fatica Sta per crashare il videogame Ma non vi perché acqua Non è molto efficace su di lui È il momento di schermaglia Non ti dico che lo fai fuori Ma lo fai Perché sei un grande Ok via Meno due Chi sono? Er Tauros Quello che ci bloccava all'inizio Prepotenza di Tauros Abbassa la lotta La lotta L'attacco Punto della situazione Siamo rimasti con due pokemon e mezzo Ahmed Jake Er Puma Ovviamente la mossa sarebbe Mannà Jake E fargli una mossa lotta E lo faremo Impossibile che ci shotta È impossibile con i pokemon Shot i nostri Sdoppiatore Farà un male atroce E se ma Mi annoda Ma lo indocrò Devi attaccare tu però ora Cotto La metanta era inutile Ah quindi Ah quindi con sdoppiatore In realtà ora non posso mai più attaccare io È la mossa che fa più male nel videogame Però noi facciamo schermaglia Che ha la priority E noi eleva Ladra Stai fermo lì Via Tauros Ne manca uno Il suo pokemon d'erba Decidueie Iperpozione Sur Puma Ok va bene Giocatela adesso Sul superpotere Z Coglione Floriscoppio sfolgorante Ma lui non sa In realtà Ah no me sa che lo Ah no l'ho già usato Per Puma Quindi non posso riutilizzarlo Sul potere Se no gli facevamo Un mega frog splash Peccato perché Se Ahmed non fosse morto È incredibile la situazione 1v1 I due starter Che finale Siamo avvantaggiati dal tipo La velocità È superiore la sua Ma voi mette Che rogo denti Mo non ti dico che lo deve Mandare al creatore Per forza Ma se io non lo posso Shottare Sicuramente non lo può Fare lui no Attacchiamo prima noi È super mega efficace Non è morto Abbattimento Non può uccidermi Se non si cura Siamo i campioni Gaetano Sulla vetta Del monte L'anachila E stoia Keep or la historia La porta a casa Dopo un'ora E venti di rec Zero restart Non è vero Un paio di volte ho restartato Ma non l'avete visto Musica epica Musica del vincitore Musica di chi Ha conquistato Alola Ancora una volta Gaetano Au siete stati entrambi Straordinari Avete scelto le mosse giuste Le vostre squadre Hanno lottato magnificamente Forse perché ho bestemmiato Oggi Alola Ha un nuovo campione Gaetano cazzo Gaetano Incinero Siete straordinari Madonna Gaetano Quanto cazzo ci ha fatto emozionare E questo è solo l'inizio No inizio Cosa c'è da fare dopo la Lega Un po' di roba Primo campione Della Lega Pokémon De Alola Ha scritto la storia Quindi entriamo nella sala del campione Guarda qui Primo campione di Alola Congratulazioni Madonna che grafiche Porca droia Merdone Con la sua chioma Zanno Con i suoi paraorecchi Jessica Con il suo cazzone Jake con la sua violenza Erpuma Con la sua classe Ma soprattutto Ahmed Il più odiato Ma il più amato Con la sua schermaglia Sono i Saiyan Che arrivano sul pianeta E salvano Gaetano Ma scusa Ma la sala del campione Era molto più epica Prima che c'era la sala del campione Venivano incisi i nomi Su una tavola di legno A mano Da una manuenze Invece no Da uno scriba Con le mani Con proprio Con i solchi Invece no Te danno solo Per cazzo Quindi finita Torniamo a Melemele Dove tutto iniziò Dove la nostra strada Si è incrociata con quella dei Pokémon Anche se hai già conquistato il titolo di campione C'è qualcosa da fare tutti i giorni Eccoci qua mamma Ti ricordi la prima volta Che sono uscito da questa stanza Che il professor Kokui È venuto a scaparti Au Che cazzo vuoi ancora Un meo di canto Guarda come brilla la sua moneta Mio dio Oh no Vieni Chetano fuori ti aspettano No Ancora loro Complimenti campione Saluta Loriano Non abbiamo a disposizione Dati scientifici Che spieghino esattamente Cosa siano i campioni Ma sono sicuramente Degli allenatori forti Che cazzo vuoi Abbiamo una richiesta Sono state rilevate Delle ultra creature a pony Oh merda Sono arrivate dall'ultra varco Aperto da Necroz Ma poi occupatene Certamente Volete venire con noi Assolutamente si Andiamo direttamente lì Vi antica de pony Ed eccoci qua Ad affrontare Una nuova straordinaria avventura Che però vivremo Dopodomani Nel 28esimo episodio Di Pokémon Ultra Sole Se sei arrivato fin qui Commenta scrivendo Gaetano Campione Ci vediamo alla prossima Ciao